Ben ritrovati ad Ultima Tg, apriamo con la cronaca, con le dichiarazioni del presidente, dell'ex presidente della Sicilia, Rosario Crocetta, che ribadisce sono stato vittima di uno scontro interno a Confindustria. Rosario Crocetta parla dopo l'avviso di garanzia ricevuto ieri nell'ambito dell'inchiesta su Montante. Poi subito dopo sentiremo l'intervista a Musumeci che viene come secondo servizio. Il primo abbiamo appunto quello su Rosario Crocetta e Montante. Naturalmente rimango molto amareggiato, ricorderete di essere stato io uno dei pochi politici che in aula è andato in tribuna e ha denunciato la mafia dell'antimafia, nel silenzio generale della stragrande maggioranza del Parlamento. Lasciamo lavorare la magistratura e però lasciatemi anche dire che l'industria dell'antimafia in Sicilia deve chiudere battenti. L'antimafia finta non può consentire anche in politica facili carriere. L'antimafia si predica nel dovere del silenzio, giorno dopo giorno. E lasciatemi anche dire che sono contento che ieri la Commissione regionale antimafia abbia eletto il presidente a larghissima maggioranza, l'onorevole Claudio Fava, ed è un segnale evidente che quando si tratta di affrontare temi delicati le forze politiche superano gli angusti confini di parte per dare segnali forti e di corale convergenza. Come avevo anticipato questa era la dichiarazione del presidente della regione Nello Musumesci, ovviamente sul caso Montante. Adesso invece risentiamo il servizio di Simona Scandurra sul caso Crocetta Marino. Mentre l'ex assessore regionale Nicolò Marino decide al momento di non parlare di Montante, arrestato giorni fa per associazione a delinquere e corruzione, l'ex governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, è un fiume in piena. Forse proprio perché da ieri anche lui ha indagato nell'inchiesta su Montante insieme a due ex assessori e all'attuale presidente di Sicindustria, Catanzaro. Sono una vittima. Sono stato tirato in mezzo, dice Rosario Crocetta, perché c'è stato uno scontro interno tra Montante e Marco Venturi. Proprio lui che insieme ad Alfonso Cicero ha denunciato alla procura della Repubblica di Caltanissetta il dossieraggio di Montante. Crocetta decide di parlare, spiegando chiaramente perché ha fatto un'alleanza politica con Confindustria nel 2012. Un'alleanza, dice, ben vista, persino da Claudio Fava, che all'epoca dei fatti diceva che in Sicilia bisognava dare spazio agli uomini dell'antimafia, Montante e Lo Bello. Crocetta dichiara di non aver mai preso fondi neri per la sua campagna elettorale, ma soltanto aiuti da alcune imprese di gela che probabilmente aderivano a Confindustria. E poi ancora un focus di Crocetta fatto proprio sulla vendita dell'Ast, un'operazione voluta da Montante, però bloccata proprio dal suo governo. Non ho mai fatto favore ad Antonello Montante e a Catanzaro, dice. Anzi, il mio governo ha pure bloccato l'operazione di vendita dell'Ast alla Ionica Trasporti, dove Montante era socio, e poi è stato anche condannato a pagare le spese legali. Su Catanzaro, dice, sono stato io a far chiudere per tre mesi la discarica di Siculiana, proprio perché non si adeguava alle prescrizioni durante l'emergenza rifiuti, creandogli un danno per 10 milioni di euro. Nell'inchiesta che vede coinvolto Montante, sono indagati anche Catanzaro, attuale presidente di Sicilindustria, Linda Vancheri, ex assessore all'Aggiunta Crocetta, e Mariella Lo Bello. Crocetta, su quest'ultima, si prende tutte le responsabilità. Ho nominato io la Lo Bello senza indicazioni di Montante. Ed è uscito un'Ansa, un'agenzia, da pochissimo proprio su Nicolò Marino, ex assessore regionale ai rifiuti all'epoca di Crocetta, che dichiara dopo appunto il caso Montante ad essere citato tra le persone spiate dalle sue dossier. Quando parlai di sistema attorno ai rifiuti, i professori Salvatore Lupo e Giovanni Fidanca dissero che non avevo atti in mano, in più tiravo a indovinare. Ecco, al momento rimango in silenzio, c'è un'inchiesta, io sono stato sentito come persona offesa, non posso dire nulla o rispetto dell'attività giudiziaria. Così appunto il PM Nicolò Marino risponde sull'indagine della procura di Caltanissetta, che ipotizza un sistema di potere, lo ricordiamo, creato dall'ex presidente di Sici Industria, Antonello Montante, ai domiciliari, con l'accusa di associazione delingue finalizzata alla corruzione. E' durata invece oltre due ore. Ieri l'udienza del processo che vede alla sbarra l'ex assessore del comune di Catania, Giuseppe Girlando, accusato di tentata concussione aggravata, ai nostri microfoni l'imprenditore che ha denunciato tutto la sua azienda sarebbe falita proprio a causa dei pagamenti ritardati dal comune. Entra nel vivo il processo per tentata concussione aggravata all'ex assessore al bilancio del comune di Catania, Giuseppe Girlando. Una vicenda scoppiata dopo le sue dimissioni che ha riguardato un'azienda, la Cimei, che si occupava della pubblica illuminazione del comune di Catania che aveva con il comune un contenzioso di 4 milioni di euro, fallita poi proprio a causa di ritardi pilotati dei pagamenti, secondo quanto sostiene l'accusa. L'ex assessore al bilancio, Giuseppe Girlando, avrebbe discusso all'interno della sua stanza proprio con l'imprenditore direttore della Cimei parole pesanti e registrate dove Girlando, forte del suo ruolo, avrebbe abusato della sua posizione per convincere il direttore di Cimei proprio di intercedere e di ammorbidire il consigliere comunale di opposizione, Maglio Messina, affinché non ostacolasse l'approvazione da parte del consiglio comunale della delibera di giunta relativa alla sostare. Uno scambio di favori sarebbe poi stato definito così, considerato però inaccettabile dall'imprenditore che ha denunciato tutto ed è stato lo stesso imprenditore parte civile del processo ieri a rispondere alle domande del pubblico ministero Fabio Regolo. All'uscita dell'udienza, cioè alla fine udienza, c'è stata la classica ciliegina sulla torta, come l'ha definito. L'assessore si avvicina, avvicinandosi a me, l'assessore battendomi una pacca sulla spalla, millantando dei rapporti con il tribunale fallimentare, mi dice testuali parole, non vi preoccupate, tanto vi stanno facendo la bancarotta fraudolenta. Questa frase mi preoccupa, mi preoccupa alquanto, considerato che ad oggi ancora non è stata presentata, nonostante fossero passati ben due anni, una relazione fallimentare, ma ancor più mi preoccupa la frase detta da chi è stata detta? È stata detta dall'avvocato Girlando che ha una posizione particolare in tutto questo contesto e non capisco, anche se fosse vero, come fa l'avvocato Girlando a sapere che stanno facendo una bancarotta fraudolenta. Mi spaventa non tanto se stanno facendo la bancarotta fraudolenta, come fa l'assessore Girlando a saperlo? Questa mattina hanno protestato gli operai ecologici di Acireale contro i licenziamenti decisi dall'azienda Tecra Servizi, una protesta molto accesa, ultimata solo in queste ore, in attesa del prossimo incontro in Prefettura. Sentiamo. Alle tre e mezza ricevono la telefonata in cui due operai licenziati, ma malati terminali, che sia ben chiaro, di cui uno anche prossimo alla pensione, si sono incatenati giustamente perché ritengono di aver subito un'ingiustizia da parte dell'azienda, che oggi dice una cosa e domani ne fa un'altra. A mio avviso ha creato all'interno un terrorismo aziendale non indifferente, la gente ha paura anche di andare a lavorare. Basta che uno alza un pochettino la voce, subito viene contestato, sanzionato, minacciato di licenziamento, come già hanno fatto quasi dieci licenziati in un cantiere in un anno e mezzo. Ci sarà una motivazione, ci deve essere qualcosa che non sta funzionando. Cerchiamo di confrontarci anche su quello. Abbiamo sempre posto il problema su un tavolo sindacale, ma pare che questi non ne vogliono sentire, hanno un modo loro di applicare una direttiva aziendale che secondo me e secondo noi non botta nessun risultato. Oggi ho una prima avvisaglia di cosa si è disposti e cosa la categoria è disposta a fare. Domani, a mio avviso, se non ci saranno riscontri più concreti, non solo la categoria, tutti i lavoratori di Acireale, al di là delle bandiere sindacali, cosa pensano di fare. Secondo me, se oggi abbiamo dato già una prova di non aver paura di nessuno, domani sicuramente faranno ancora azioni più eclatanti. Quindi ognuno si assume le proprie responsabilità di ciò che succede nel cantiere di Acireale. E veniamo alla pagina delle elezioni amministrative. Inizia ovviamente il tour dei big anche in Sicilia. Oggi è il turno di Giorgio Meloni, fratelli d'Italia, che sostiene ovviamente la coalizione del centrodestra. Meno di un mese dalle elezioni comunali in Sicilia previste per il 10 giugno. Comincia quindi la passerella dei big della politica per dare manforte ai propri candidati. Oggi Giorgio Meloni, leader di Fratelli d'Italia, sostegno delle candidature nel centrodestra. Accanto a lei il coordinatore regionale Maglio Messina, oltre ai deputati regionali e nazionali, tra cui Elvira Amata e Gaetano Galvagno. Le elezioni amministrative a Catania, a Messina e altri due capoluoghi di provincia della Sicilia. Il 10 è un impegno importante soprattutto per voi? Assolutamente, è un impegno molto importante. Sono molto fiera del lavoro che è stato fatto dal nostro coordinatore regionale Maglio Messina, che è stato fatto dalla nostra classe dirigente, perché qui in Sicilia orientale abbiamo presentato liste in comuni nei quali prima non esisteva una realtà di Fratelli d'Italia, per cui il nostro radicamento, la nostra presenza sta assolutamente crescendo. Sono tutte ottime liste, fatte di persone per bene, radicate sul territorio, che conoscono la loro terra, e che vogliono offrire delle risposte. Penso che questa sia la sfida poi di Fratelli d'Italia, una politica che è capace di partire dal basso e di guardare le persone negli occhi, di poter guardare sempre le persone negli occhi. Un'agenda fitta di impegni che la redà tra l'altro dopo la tappa cadanese, presente a Messina e a Daci Sant'Antonio nella provincia Etnea per sostenere il candidato sindaco Antonio Di Stefano. A me interessa quello, poi ognuno fa le proprie scelte, l'Italia per carità ha bisogno di un governo, mi chiedo ancora oggi, chiedo anche a Salvini, se davvero sia convinto che questa sia la scelta migliore e che non sia magari il caso di tornare a chiedere con forza un incarico per il centrodestra al Presidente della Repubblica, perché non ho fatto mistero di non condividere le scelte di Mattarella, che ha fatto tutto salvo dare l'incarico a chi aveva vinto le elezioni per tentare di formare il governo. Però ognuno poi fa le proprie scelte e valuteremo sulla base di quelle scelte. Ieri, ultimo giorno utile per consegnare le liste in vista delle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno, tracciamo il quadro della situazione in tutti i capoluoghi di provincia siciliani al voto. Scaduto il termine ultimo per la presentazione delle liste, adesso è tempo di rush finale in attesa che il voto del 10 giugno assegni le poltrone da sindaco nei capoluoghi di provincia siciliani al voto. Partiamo da Messina, dove saranno sette i candidati con 29 liste. Cerca il secondo mandato da sindaco Renato Accorinti, appoggiato da tre liste civiche. Il centrodestra corre spaccato, da una parte Dino Bramanti, appoggiato da Forza Italia, noi con Salvini e Fratelli d'Italia, e altre sette liste civiche. L'ex capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Pippo Trischitta, si presenta con due liste. L'ex presidente del Consiglio Comunale, Emilia Barrile, anche lei Forza Italia, si presenta con la sua lista alleali progetto per Messina. Il deputato regionale, Cateno De Luca, di area centrodestra, si presenta con sei liste civiche. Il centrosinistra presenta il candidato Antonio Saitta, accompagnato da sei liste, tra cui PD e Sicilia Futura. Infine, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle è l'ex capo del Genio Civile, Gaetano Sciacca. Anche a Ragusa corrono in sette per la poltrona di sindaco, con 23 liste presentate. Non confermato, il sindaco pentastellato uscente Federico Piccitto. Al suo posto i 5 Stelle hanno candidato l'attuale presidente del Consiglio Comunale, Antonio Tringali. Il centrodestra esprime due candidati, Sonia Migliore e Maurizio Tumino. Entrambi consiglieri comunali uscenti, che godono dell'appoggio rispettivamente di 5 e 4 liste. All'insegna dello sport è la candidatura di Giuseppe Cassì, ex capitano della Poporale Ragusa, di basket in serie A2, appoggiata da 4 liste, fra cui Fratelli d'Italia. Nel centrosinistra il candidato è Giuseppe Calabrese, appoggiato da 5 liste, tra cui quella ufficiale del PD, mentre Giorgio Massari, consigliere comunale demmuscente, ha scelto un progetto civico per vincere. Si candida anche il docente liceale Carmelo Ialacqua, appoggiato dalla lista civica Città Futura. Sette gli aspiranti sindaci anche a Siracusa, che correranno con 19 liste. Ci prova l'ex assessore regionale Zechia Paolo Reale, sostenuto da otto liste incluse Forza Italia, Udc, Fratelli d'Italia, Popolare ed Autonomisti. A sinistra Fabio Moschella, sostenuto da tre liste, una delle quali allarga componente Dem. Pesca nel bacino del centrosinistra anche Giovanni Randazzo, con l'unica lista Lealtà e Condivisione per Siracusa, composta da avvocati e imprenditori. Tre liste per l'attuale vice sindaco Francesco Italia. A destra Fabio Granata, ex presidente della Commissione Antimafia, è sostenuto da due liste civiche. La Lega corre da sola con Francesco Midolo, ex assessore comunale. Silvia Russo Niello correrà sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle. A Trapani sono cinque candidati a sindaco appoggiati da 13 liste. A esprimere un simbolo sono Vito Galluffo, con tre liste fra cui Forza Italia, Bartolo Giglio unicamente con la Lega e Giuseppe Mazzonello con il Movimento 5 Stelle. Giacomo Trinchida gode di un appoggio trasversale, che va da esponenti del PD fino a diventerà bellissima. A sostenerlo sono sette liste civiche. Infine Peppe Bologna correrà con la lista Scirocco per Trapani. E vediamo come Catania si sta preparando invece al voto delle prossime amministrative. Cinque i candidati a sindaco in campo con la campagna elettorale, che adesso entra davvero nel vivo. Catania è pronta al voto. Saranno tre settimane intense quelle che porteranno al 10 giugno, data in cui si rinnoveranno sindaco e consiglio comunale. Uno degli scontri elettorali più interessanti degli ultimi decenni nella città etnea, con favoriti certo, ma insediati da outsider che potrebbero riscrivere degli equilibri apparentemente solidi. Da una parte rappresentanza del centro-sinistra c'è il sindaco uscente Enzo Bianco, che punta al secondo mandato consecutivo per completare il suo progetto iniziale, Catania 10+, che già dal nome rievoca la volontà di passare almeno 10 anni sullo scranno più importante di Palazzo degli Elefanti. Bianco ci proverà con l'appoggio di cinque liste, con la chiara scelta di lasciare fuori dai giochi il simbolo del PD, puntando tutto su una candidatura fortemente civica sulle orme del collega palermitano Leo Luca Orlando. Dalla parte opposta c'è il candidato di centro-destra Salvo Pogliese, che, dopo la lunga riflessione, ha deciso di lasciare il Parlamento europeo per cercare una nuova avventura nella sua città. Una scelta che lui stesso ha definito di cuore. Pogliese potrà usufruire di ben nove liste, tra cui Forza Italia, suo partito di appartenenza, Fratelli d'Italia e Lega. Proveranno a confermare quanto di buon ottenuto le elezioni nazionali 5 Stelle, che hanno scelto Giovanni Grasso per rappresentare il movimento a Catania. Una campagna breve, quella pentastellata, perché l'indecisione sul nome ha comportato un ritardo sulla composizione delle liste. Fatto sta che il quasi 50% di consenso del 4 marzo resta un dato significativo da non sottovalutare. Da capire è invece il potenziale di Emiliano Abramo, presidente regionale della comunità di Sant'Egidio, che è stato il primo ad ufficializzare la propria candidatura a sindaco e che potrà contare sull'appoggio della lista civica è Catania. Infine Riccardo Pellegrino, consigliere comunale uscente, che dopo essersi staccato da Forza Italia, ha deciso di intraprendere un cammino autonomo per rientrare al Palazzo degli Elefanti da sindaco. Ci proverà, grazie alla sua lista civica, un cuore per Catania. Sarà una lotta fino all'ultimo voto, specialmente per chi spera di portare a casa il risultato già a primo turno. E anche per il Comune del Cireale, ieri sono chiusi i termini di presentazione delle liste, 5 gli aspiranti sindaci, il Comune torna al voto con un anno di anticipo dopo l'inchiesta che ha portato all'arresto del sindaco Barbagallo. Dopo le vicende che negli ultimi mesi hanno scosso il Comune di Cireale, la città cerca un riscato e lo fa anche attraverso le elezioni amministrative del prossimo 10 giugno. A Cireale torna al voto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale, considerato che le precedenti amministrative risalgono al 25 maggio del 2014, quando nel ballottaggio Roberto Barbagallo ebbe la meglio su Michele Di Re. Barbagallo poi il 23 febbraio scorso restò coinvolto nell'operazione Sibilla condotta dalla Guardia di Finanza e venne arrestato. Qualche giorno dopo rassegnò le dimissioni da primo cittadino e la Regione, come da prassi, nominò un commissario straordinario, Salvatore Scalia. Sarà lui infatti a consegnare la fascia al nuovo sindaco, 5 le candidature a sindaco e 347 aspiranti, consiglieri comunali distribuiti in 15 liste. Numeri di gran lunga inferiori rispetto a quelle delle elezioni amministrative del 2014, quando scesero in campo 7 candidati a sindaco e 587 al Consiglio Comunale inseriti in 20 liste. Ecco i nomi. Stefano Allì, sostenuto dalla lista Movimento 5 Stelle, che ha designato come assessori Palmina Fraschilla, Carmelo Grasso e Salvatore Pirrone. Per la Lega, noi con Salvini, ci sarà Giusy Brischetto, Daniela Di Piazza, Deborah Incognito e Luciana Scandura, saranno i suoi assessori. Scende ancora una volta in campo Michele Di Re, sostenuto da Forza Italia, Udc, diventerà bellissima, Viviamo a Cireale, Direzione a Cireale, più giovane a Cireale, fatti avanti a Cireale, Fratelli d'Italia. Nella sua squadra, Vincenzo Carbonaro, Antonella Di Paolo e Giuseppe Esterini. Rito Greco è sostenuto da PD, a Cireale Democratica e Movimento per a Cireale. I suoi assessori saranno Daniela Ardita, Antonio Belcuore e Santo Leotta. Infine Nino Nicotra concivicamente, iniziativa civica si può fare e amiamo a Cireale. Lui ha scelto Antonino Cascio, Alessandro Catalano, Margherita Matalone e Antonino Sanfilippo. La testa dunque al 10 giugno quando saranno chiamate alle urne 45.877 a Cesi. È una giornata storica per la Sicilia perché si formano primo contratto decennale della storia, il primo contratto di servizio che prevede investimenti importanti con 43 nuovi treni. I primi arriveranno a novembre 2019. Lo ha detto Orazio Iacono di Trenitalia e la firma del contratto di servizio decennale tra Regione e Trenitalia. Un nuovo inizio per il sistema ferroviario siciliano con la firma oggi in Piazza Verdi a Palermo del contratto di durata decennale tra la Regione siciliana e Trenitalia per un importo di 1 miliardo e 200 milioni di euro. Sicilia è una regione come tutte le altre e ovviamente i numeri che parlano di Sicilia parliamo di 10-12 milioni di viaggi l'anno quindi vuol dire che trasportiamo circa 10 milioni e mezzo 11 di persone l'anno e quindi voi pensate bene che non è il più alto grado di utilizzo ovviamente della rete ferroviaria e quindi questo è un dato che dobbiamo migliorare perché noi prendiamo come sfida noi siamo il vettore e come vettore ovviamente accettiamo le sfide e vogliamo portare sempre di più quello che è il comfort e quella che è la qualità del viaggio dell'esperienza di viaggio in una terra come questa in cui è fondamentale come in tutte le terre la mobilità. Si tratta del primo accordo sottoscritto dopo il passaggio delle competenze del trasporto ferroviario dallo Stato alla Regione. Ha due anni che si aspetta la firma del contratto con Trenitalia quindi noi siamo riusciti in quattro mesi a fare quello che non si era fatto negli anni passati. Trenitalia ha compreso di avere adesso un nuovo interlocutore esigente leale un interlocutore con il quale confrontarsi per ottenere il risultato finale che è la qualità del servizio per i cittadini la migliore qualità possibile. Migliorare la qualità del servizio ferroviario è il primo obiettivo da raggiungere attraverso il potenziamento della rete esistente altro punto fondamentale è fare in modo che ci sia integrazione con il trasporto sul gommato. Qui dobbiamo tornare a privilegiare il trasporto ferroviario non per penalizzare quello sul gommato delle autolinee ma perché i due sistemi possano finalmente integrarsi. Raddoppio ferroviario oggi la conferenza stampa e il sindaco di Catania ribadisce via libera al nuovo tracciato migliorativo. Evitare lo sventramento del percorso perfezionare il tracciato ma soprattutto rendere gli archi della marina perfettamente accessibili a chiunque una passeggiata con vista sul barocco etneo. Via libera quindi al nuovo tracciato per il raddoppio ferroviario della tratta Zuria-Quicella illustrato nei dettagli nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte l'assessore all'urbanistica Salvo Di Salvo i responsabili dei lavori del nodo Catania Salvatore Leocata il progettista del Ferro Raffaele Marino e i rappresentanti del Forum Catanese della Cultura e dell'Ambiente. Cinque anni fa quando mi insediai le ferrovie dello Stato avevano previsto il raddoppio della linea ferroviaria tra Palermo Catania e Messina e nell'attraversamento di Catania che questo raddoppio ad alta velocità avvenisse su un percorso degli archi della marina quelli che esistono oggi e sul percorso attuale del tracciato ferroviario e cioè praticamente lambendo il castello l'Ursino e prevedendo la demolizione di 90 edifici anche di carattere storico e prevedendo che i suoi giarchi della marina passassero treni ad alta velocità il sindaco di allora Stangarelli si oppose e gliene dò volentieri atto io mischierai con lui scesero in campo associazioni della società civile da allora ho iniziato una lunga battaglia che oggi prevede di realizzare sì il raddoppio ferroviario ad alta velocità che è importantissimo per tutta la Sicilia e anche per Catania ma di farlo con un percorso sotterraneo con la stazione ferroviaria a 15 metri sotto il livello attuale passando sotto il porto e realizzando ben due stazioni di metropolitana sulla ferrovia una a piazza Borsellino e quindi sostanzialmente a servire tutta la zona turistica Villa Pacini Piazza Duomo e una in via Plebiscito nel cuore di San Cristoforo e quindi dando respiro anche a un quartiere che oggi è con un elevato grado di sofferenza salvaguardando tutti gli edifici storici e avendo questa grande vittoria questo ormai è il progetto che prevede che sulla linea degli archi della Marina dove non ci saranno i binari ci sarà una passeggiata pedonale e una pista ciclabile lungo tutto quel percorso nel cuore antico della città sono orgoglioso di una delle più belle realizzazioni che riguardano la vita della città e che nei prossimi anni si realizzerà e continuiamo a parlare di trasporti ai nostri microfoni il presidente dell'azienda metropolitana trasporti di Catania Pucciola Rosa per parlare del momento positivo che sta vivendo l'azienda e dei progetti futuri la riqualificazione parte dal basso dalla consapevolezza dei problemi e dalla volontà di trovare una soluzione l'azienda metropolitana trasporti di Catania continua il percorso di crescita iniziato qualche mese fa tante le novità per mettersi al passo con le realtà internazionali ne abbiamo parlato con il presidente dell'azienda Pucciola Rosa in occasione della presentazione dell'Emergence Festival chiudiamo l'ultimo bilancio di esercizio con un utile significativo oltre un milione di euro andiamo a lavorare abbiamo già dei resoconti che ci dimostrino come già in questa prima fase dell'anno il bilancio è assolutamente in senso positivo stiamo chiudendo degli accordi in convenzioni con enti per cercare di sostenere il concetto della mobilità sostenibile abbiamo realizzato lo scorso 21 marzo l'integrazione tariffaria vale a dire oggi con un unico biglietto o con un unico abbonamento è possibile viaggiare sia sul bus che sulla metropolitana fatto importante perché finalmente abbiamo permesso che anche la città di Catania avesse uno strumento agile e moderno per poter viaggiare abbiamo creato delle linee di scambio con la metropolitana le linee M lo voglio ricordare la 504 M la 613 M la 214 M che significa creare una perfetta integrazione intermodale fra i due sistemi abbiamo aperto dei nuovi parcheggi quello dove ci troviamo l'altro in piazza Borsellino per cercare di fare respirare il centro storico abbiamo potenziato il parcheggio dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa dove con appena 2,50 euro è possibile lasciare l'auto e servirsi di una lanetta di collegamento con l'aeroporto stiamo ammodernando la nostra flotta attraverso i fondi ricavati con il POMETRO e abbiamo il 22 di marzo siglato un contratto per l'acquisto di 50 mezzi abbiamo acquistato e acquisteremo altri 24 mezzi attraverso i fondi della legge del Rio già ce ne hanno finanziati 9 ma presto avremo il finanziamento anche per i restanti 19 abbiamo agito su quelli che sono i fondi POCO per cui acquisteremo altri 38 mezzi e naturalmente stiamo cercando anche di giungere con le organizzazioni sindacali ad accordi applicativi del contratto nazionale del lavoro che permettono di lavorare meglio ai nostri autisti e di avere una migliore produttività da parte dell'azienda e a proposito di azienda municipale trasporti la street art d'autore arriva a Catania e siamo entrati infatti all'ingresso del parcheggio di via plebiscito dell'MT per mostrarvi in anteprima le opere realizzate da artisti di strada internazionali che saranno presentate il prossimo 25 maggio l'arte in tutte le sue forme in tutte le sue espressioni per far vivere e rivivere dei luoghi abbandonati all'interno del parcheggio di via plebiscito dell'azienda metropolitana trasporti di Catania artisti di fama internazionale per dare vita all'Emergence Festival un festival internazionale di arte pubblica giunto ormai alla settima edizione in Sicilia Catania non è considerata una tappa qualunque dopo il progetto sui silos del porto è ormai diventata una delle capitali internazionali della street art già a dicembre in fase di apertura del parcheggio avevamo ospitato una prima parte dell'Emergence Festival ospitando artisti importantissimi come Gomez che solo per citarne qualcuno in questo momento espone all'interno della cupola di Fuxas a Roma oltre che in varie altre parti del mondo oggi abbiamo rilanciato la seconda fase andando ad ospitare altri artisti come Etnik che è l'artista che ha realizzato il lavoro alle nostre spalle Sten e Lex che anche loro hanno una risonanza a carattere internazionale e questo per qualificare sempre di più questo spazio anche perché andremo a lavorare per reperire i fondi necessari per riconvertire i vecchi capannoni industriali e attraverso lo sfruttamento di quella che è l'archeologia industriale creare degli spazi che servono per la crescita culturale e economica della città Un museo a cielo aperto che potrà essere ammirato dal prossimo 25 maggio opere che cambieranno il volto di Catania Stiamo cambiando Stiamo cambiando la destinazione d'uso di questo spazio questa era un'auto rimessa che serviva per gli autobus di linea e invece noi dismessa noi diciamo che la stiamo salvando sono ritornato a Giardini di Naxo in Sicilia ho visto un po' un paese come dire derubato dalla propria bellezza speculazioni edilizie e per cui ho pensato dico iniziamo a mettere delle toppe portiamo un po' di colore in questo posto anche per incentivare il turismo E adesso ci fermiamo per la pubblicità poi subito dopo lo sport autobus e metropolitana con un solo abbonamento scegli quello che fa per te e sali a bordo per maggiori informazioni visita amt.ct.it o circometnea.it un po' di colore vetro scheggiato ct glass è già riparato vediamo un'ultima ora prima di dello sport è morta Sara indorante la ragazzina di 14 anni che è caduta dal tetto di un magazzino dopo aver tentato di recuperare un pallone la giovane era insieme ad alcuni amici le sei sul tetto di un magazzino la copertura in plexica si è sbriciolata sotto il peso la ragazzina ha fatto un volo di 10 metri è stata trasportata prima all'ospedale di Termini maresi poi in reanimazione al civico questa mattina purtroppo non ce l'ha fatta e andiamo con lo sport domani il Palermo sfida la Salernitana per l'ultima gara di campionato il Palermo è sicuro domani di poter tentare il colpaccio vincere a Salerno prima di tutto e poi sperare in un passo falso di Frosinone e Parma una serie di risultati concatenati tra loro potrebbe regalare un'inaspettata promozione ma non bisogna farsi illusioni perché il Palermo avrà bisogno di un vero e proprio miracolo sportivo per poter guardare con una certa fiducia nella classifica domani la gara contro la Salernitana è l'ultimo appio per una stagione che è andata male per come è stata gestita poi si penserà solo ed esclusivamente ai playoff verosimilmente Palermo Parma Cittadella Venezia Bari e Perugia si giocheranno l'ultimo posto per la Serie A avversario che il Palermo dovrà affrontare con un altro piglio partiamo dal basso ovvero dal Perugia che dopo un inizio spumeggiante ha vissuto una stagione tra alti è stato primo in classifica per alcune giornate e Bassi per settimane ha navigato in zona playout e alla terza partecipazione e potrebbe essere l'outsider in panchina ci sarà Alessandro Nesta il Venezia di Inzaghi è lì un po' a sorpresa ed è la prima volta a playoff mentre per il Cittadella si tratta della seconda partecipazione di Figa Parma e Palermo sono invece le favorite per la finale ma mentre il Parma ha giocato l'anno scorso un playoff vincendolo proprio ai danni del Pordinone e dell'ex Tedino il Palermo non gioca un playoff dal 1999 quando giocò in Serie C1 e l'accesso per la Serie B da allora di acqua sotto i ponti ne è passato adesso conta solo vincere domani contro la Sarnitana per confermare il quarto posto e sperare in un risultato positivo dagli altri campi poi si proverà ad agganciare il terzo posto e un inesperato secondo posto nel frattempo arrivano due brutte notizie dell'infermeria si fermano nuovamente Coronato e Nestorowski due problemi muscolari che li scludono dalla partita di domani mettendone a rischio anche la presenza nei playoff per andare in Serie A servirà il miglior Palermo mentre il Catania torna ad allenarsi a Torre del Grifo in attesa dell'esordio nei playoff del 30 maggio proseguono le tappe d'avvicinamento alla fase dei playoff in cui entrerà il Catania da qui al 30 maggio nulla dovrà essere lasciato al caso ed i dettagli rappresenteranno un fattore essenziale squadra che torna ad allenarsi e per l'occasione Lucarelli ritroverà Bogdan Tedeschi e Curiale tutti assenti nel test contro l'Igea Virtus in fase di recupero dopo l'infortunio anche Francesco Lodi obiettivo essere a disposizione per la gara d'andata del playoff rossazzurri spettatori interessati al terzo turno degli spareggi quelli su base nazionale che vedranno incroci molto interessanti tra questi Viterbese Pisa Feral Pisa Alessandria o Cosenza Trapani remake dell'ultima giornata di campionato quella che ha regalato il secondo posto agli etnei ancora una settimana il 24 maggio uscirà tramite sorteggio il nome dell'avversario per Lucarelli e i suoi probabile che fino ad allora la squadra possa sostenere ancora un test amichevole per mantenere vivo il ritmo degli allenamenti grande attesa anche per i due mental coach Tavoletti e Vassallo chiamati a dare un importante contributo in questa fase della stagione per gestire le pressioni dopo qualche blackout patito in campionato Mentre la Leonzio ha terminato da qualche giorno la sua prima stagione tra i professionisti Un playoff sfumato negli ultimi dieci minuti al San Vito Marulla di Cosenza nonostante il vantaggio la stagione della Leonzio resta però più che positiva parola del presidente Leonardo più che deluso c'è un po' di rammarico perché si poteva fare qualcosa ancora di più importante oltre a quello che si è fatto quest'anno non abbiamo rimpianti abbiamo fatto una partita anche a Cosenza abbiamo potuto essere giusta come era da gestire il risultato del 2-1 è bugiardo sull'1-0 sappiamo tutti che potevamo dire la partita non siamo sedicinici purtroppo è calcio anche questo avevamo un risultato soltanto non abbiamo colto il gol di Pollino però pazienza andiamo avanti rafforzeremo pesante pesante perché siamo andati anche oltre il lato calcistico le problematiche che tutti conosciamo che abbiamo affrontato non solo da tutti i giorni le società sono pochissime società che possono risolvere in meno di 5 mesi la problematica che abbiamo avuto noi riguardante appunto soltanto l'installazione del reddito di faro il bilancio è positivo un risultato importante l'Aleoncio come ogni anno è sempre tra le prime quest'anno in Serie C si è fatto un playoff importante siamo usciti a testa alta questo è da spunto per ripartire per fare si augura per alzare un po' con la stricella l'anno prossimo società ambiziosa che punta al proseguimento del progetto magari ancora con il tecnico Aimo Diana in panchina discorso Diana ci stiamo parlando ci stiamo vedendo il mister ha fatto bene quest'anno lo sappiamo gli arriveranno delle offerte importanti da da qualche club anche di categoria superiore però credo che ci sederemo parleremo tranquillamente e sconeremo il nostro pensiero l'utilizzo della sua su quello che potrebbe essere l'Aleoncio del futuro siamo positivi bisogna andare a vedere con le liste piene a massimo 14 c'è anche questa della bilancia che è importantissima e poi bisogna andare a vedere anche qualche ragazzo che ha fatto bene quest'anno come lo stesso Pollino lo stesso Gammone lo stesso Arcidiacono D'Angelo che potrebbero avere delle offerte importanti che ha delle categorie superiori il mercato si deve aspettare il mercato di Serie C è un po' di ritardo perché comunque si aspettano i playoff si aspettano la Serie B prima c'è un mercato di sportivi poi ci nasce il mercato dei calciatori alla nuoto ultima gara di campionato sabato invece alle 18 per la nuoto Catania che ha già centrato l'obiettivo salvezza una stagione lunga vissuta tra alti e bassi ma sempre con grande impegno e carica agonistica la nuoto Catania si appresta ad affrontare l'ultima giornata di campionato e chiudere così una stagione comunque positiva i rossazzurri hanno centrato con due turni d'anticipo la salvezza obiettivo principale della stagione e puntano a chiudere al meglio l'annata di fronte al pubblico della piscina Scuderi sabato alle 18 la 26esima gara del campionato contro Posillipo con pagine a meno due punti in classifica dai ragazzi di coach Peppe Dato una nuoto Catania quota 33 punti ottava in graduatoria e più tranquilla dopo aver centrato il traguardo salvezza chiusa la stagione ci sarà tempo per pensare al futuro chi ha chiuso un grande 2017 2018 è l'orizzonte Catania un'annata ad altissimi livelli che ha visto però mancare il trionfo in campionato con la finale persa ai rigori contro il plebiscito Padova nel match di Firenze di domenica scorsa per le ragazze di Martina Miceli una cocente delusione che però non può cancellare quanto di buono fatto in stagione con una regular season dominata del prestigioso cammino in Coppa Campioni lì le catanesi hanno dimostrato di essere tornate ai livelli di qualche anno fa quando la bacheca si riempiva di grandi trofei internazionali ed era questo l'ultimo servizio vi ringrazio di aver seguito Ultima Tg e vi auguro buon pomeriggio l'ultimo servizio